Cari amici, eccoci qui con un'entusiasmante novità da condividere. L'atteso momento è finalmente giunto con un video speciale per svelarci gli importi delle pensioni di agosto nei nostri fascicoli previdenziali INPS, finalmente aggiornati. Prima di tutto, vorrei invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere gli avvisi sui nuovi video che caricherò. Il vostro supporto è fondamentale, quindi se il video vi piace, lasciate un bel mi piace, schiacciando quel pollice verso l'alto e condividete ed inviate questo video a tutte le persone di vostra conoscenza che ne abbiano bisogno. Ora passiamo al dunque. Per scoprire in anteprima il netto del pagamento che riceveremo il prossimo mese di agosto, dobbiamo seguire un semplice percorso. Accedete al sito INPS tramite Speedo.cie, digitate nella barra di ricerca Fascicolo previdenziale del cittadino e cliccate su Approfondisci e Usa lo strumento. Si aprirà un menu a tendina. Selezionate Prestazioni, poi Pensioni e successivamente Lista pensioni. Infine, cliccate su Pensione sotto la casella Archivio sulla sinistra. Ecco fatto! Ora dovreste visualizzare l'importo netto del pagamento di agosto 2023. Ma ricordate, per tutti i dettagli bisognerà aspettare il cedolino ufficiale. Tuttavia, questo dato preliminare vi permetterà di farsi un'idea se l'INPS ha provveduto a eventuali rimborsi 730, una quattordicesima arretrata o aumenti delle pensioni minime, ancora arretrati per chi non li ha ricevuti a luglio. Amici, non perdete tempo. Correte a controllare e fateci sapere nei commenti com'è andata. Se avete trovato il video utile, non dimenticate di supportare il canale lasciando un mi piace. E, ovviamente, iscrivetevi per non perdere gli altri video. Alla prossima! Alla prossima!